Tu lo vedi l'overlay? Ok No, non lo vedi l'overlay, quello di Windows? No Sei dubito che girerà bene La bid è la stessa dell'altra, solo che hanno aggiunto nuove modalità online Però hanno promesso che sarà ottimizzato al lancio Non ci credo proprio Grazie È un'arma single shot, cioè se lo prendi lo ammazzi Il mio Spartan, con il Game Boy in testa poi, bellissimo La presentazione, no? Perché tu te lo customizzi lo Spartan, quindi lì ci sta Devi far vedere a tutti quanto è perfetto Ehi, è chiuso Ehi, è chiuso Questo c'ha lo skidione Oh! Ha laggato Sta girando molto bene Stiamo facendo Stiamo facendo Stiamo facendo Dai, dove siete? Possiamo non lo prendere È impossibile girare, ci vedete con questo Ok No È una merda qualcosa Però è un shot È molto più ottimizzato di prima Tu non vedi è statistica, ora sto usando tutto il computer Sì Alla prossimo Sotto Certo Nelca, c'è da qui ma che c**o quest'alpha sta usando solo 5gb di ram in compensa sta usando 2 e 6 igori della scheda da video sta usando più vram che ram di sistema oh sono il primo post, non male oh cos'è il martello? cos'è? ah è il sandwich dove sta? questo che parla è la è la tua intelligenza artificiale si può customizzare non c'è? non c'è? skewer avaliable non c'è? non c'è? con euro non c'è? non c'è che oh personal ma adesso c'è una... una nascita perchè non passa la pistola con F? che fastidio no? cambiate oh, tutti e due alla luce, oh bro oh my god quella è la play of the game no, bravo usco no, bravo usco non è la presa non è la quarta no non è la quarta non è l'altro non è la quarta non è l'altro no è l'altro Power items on the field! Taking fire. Oh shit, sit down. Victory! Eh, le granate su allucompose, tutte cose che sono di DSP, eh? E' sorpresante! Ci sono quelle che ritmo, che sono quelle dei umani, che sono nelle lecce, però stanno diverse di granate a niente Ci sta un'altra modalità, quella con il martello Arena, Slayer, Research Questa è la sezione un po' aguita, però Qua c'è i due gravi di Ampere C'è un po' ballo, Spartan Non è un'arena, è molto diverso da un'arena secondo me, cioè tutti gli alo ti fa pensare C'è il fatto delle armi a terra, dei potenziamenti, questo sì Anche se le armi sui muri è stata un'aggiunta di questo tipo, non c'era Graviti hammer, eh gravity hammer, è bellissimo da giocare Comunque questa è la 4v4, poi c'è pure la 32 contro 32 che è un po' spasso sinceramente Il contro 32, nella mappa aperta, con i veicoli, gli aerei, no ci stanno i 6 contro 6, gli 8 contro 6 Però l'ho da po' spasso, perché la 32 contro 32 si chiama warzone Eh già, esiste da prima che uscisse warzone L'ho preso con la camera Graviti hammer, due di deficit, due di ammazzato a questo Eh, volevo fare uno slide con la C di Call of Duty Sì, mi sono dimenticato, mi è andata in Call of Duty Mi hanno messo la Semtex, l'equivalente della Semtex Però questi sono tutti vecchi ciclotori di Halo, sicuramente Mi piacevano solo ad Halo Sempre... Mi ha detto che era una sezione tra in classica Un po' spesso Un po' spesso Come si è un po' spesso Prima di prendere Sto Sto E' un po' più forte, questo è un po' più forte. No 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 Ah, sta qua il gravi di Amber, ma se l'hanno fatto già. E' là. Eh, vabbè, io del collega, prima che potessi provare a fare l'azione interessante. 1-0. 1-0. 1-0. 1-0. 1-0. 1-0. 1-0. 1-0. 1-0. Overshield inbound. 1-0. Overshield available Taking fire Defeat Interessante, interessante Stop la registrazione Stop la registrazione